Benvenuti spettatori di Le Fonti TV a una nuova puntata di Agora Marketing, il nostro format originale che è incentrato proprio sulla ricerca e con lo sviluppo di tutte le nuove tendenze nel mondo del marketing e della comunicazione. Oggi ne parleremo con l'ospite che mi ha raggiunto in studio, ovvero Luca Cardone, responsabile 5G and Corporate Solution di Win3. Grazie naturalmente per essere qui con noi oggi. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Ecco, dottor Cardone, io direi partiamo proprio da una panoramica generale. Naturalmente il 2016 per voi è stato un anno particolarmente significativo perché c'è stata la fusione tra Win3, nel frattempo però nel settore della telefonia mobile ci sono state grandi trasformazioni che portano soprattutto verso la direzione delle imprese e questo significa concentrarsi su 5G, cyber security, trasformazione digitale e big data. Ecco, su quali aspetti vi state concentrando particolarmente? Bene, grazie. Allora, il tema è semplice, diciamo, il 5G ha facilitato, diciamo, l'adozione di tecnologie che hanno permesso, diciamo, la tecnologia 5G di per sé è un abilitatore della digital transformation per le aziende, cioè la tecnologia 5G di per sé è nata per supportare le aziende più che per il mondo consumer, quindi questo ci ha permesso e ci sta abilitando tutta una serie di iniziative e di tecnologie che si rivolgono di più al mondo del business. Quindi l'azienda negli ultimi anni si è concentrata molto sullo sviluppo, diciamo, di iniziative e di nuovi servizi che vanno verso il mondo del business. In particolare, quindi, quando parliamo di soluzioni che vanno verso la digital transformation delle aziende, per cui stiamo parlando di un partner come noi che vuole essere, diciamo, a supporto della digital transformation delle aziende, perché ricordiamoci sempre che le aziende di telco, diciamo, le aziende di telecomunicazione sono un abilitatore alle tecnologie, un abilitatore alla connessione, quindi all'utilizzo delle tecnologie, vogliono essere sempre di più a supporto, diciamo, del business delle aziende. Per essere a supporto del business delle aziende non basta solo la connettività, ma bisogna saper interagire con i bisogni delle aziende. Per interagire con i bisogni dell'azienda bisogna avere servizi abilitanti per rispondere ai loro bisogni, quindi stiamo parlando di soluzioni, per esempio, che vanno dal mondo della cyber security, il cloud, tutto quello che è il mondo dell'IoT, tutto il mondo delle soluzioni che si integrano nel mondo del 5G, quindi sia l'IoT, sia tutto il mondo delle private network, quindi diciamo soluzioni più enterprise che vanno logiche, diciamo, di sicurezza, porti, sicurezza pubblica e tutti questi contesti. Quindi Wind3 si è concentrata molto negli ultimi anni a sviluppare quello che noi oggi chiamiamo i servizi innovativi che si appoggiano alla connettività, quindi non siamo solo il fornitore di connettività, ma siamo anche, diciamo, un enabler che integra, perché è importante integrare le soluzioni come il cloud, la cyber security, alle soluzioni di connettività e fornire al cliente il massimo supporto in termini proprio di end-to-end, quindi di progettazione, quindi ti sviluppo e ti seguo nella tua digital transformation supportandoti sia da solo che in un ecosistema di partner che sono in grado di supportarti in questa trasformazione. Chiaro. Ecco, lei ha utilizzato un'espressione chiave, andare incontro anche ai bisogni delle aziende. Naturalmente bisogna sviluppare delle strategie. Ecco, io le chiedo quali sono le strategie che state sviluppando nello specifico. Allora, in primis, se parliamo di strategie da un punto di vista proprio di, diciamo, come ci si rivolge al cliente, stiamo cercando di lavorare proprio a stretto contatto con le aziende per recepire i loro bisogni e insieme progettare un percorso di trasformazione, perché è un percorso che ha bisogno delle sue tappe e di anche tempi giusti, perché le aziende per trasformare devono anche trasformare i propri processi, la propria cultura e quindi noi dobbiamo essere al loro supporto. Quindi spesso e volentieri ci sediamo con il cliente e cerchiamo di spiegare quali possono essere i supporti ideali per la loro trasformazione, ascoltando in primis quelle che sono le loro esigenze e poi sulla base delle loro esigenze andare a sviluppare la strategia migliore per loro. La strategia migliore non è detto che sia semplicemente un'offerta wind 3 e basta, ma può essere una strategia fatta anche, come dicevo prima, in partnership con altri nostri partner dell'ecosistema che siamo in grado di integrare e di far interagire con il cliente, perché la grande difficoltà oggi che un cliente nel mondo della digital trasformazione ha è quello di dover poi interagire con tanti partner che hanno tutti delle particolarità diverse. Il nostro vantaggio è che lavorando tanti anni con i partner siamo in grado anche di essere l'interlocutore primario e fare da filtro o comunque da supporto per il nostro ecosistema di partner. Questa è la strategia da un punto di vista di marketing. Poi c'è una strategia da un punto di vista comunicativo. La vera difficoltà oggi è che c'è un mercato diciamo complesso da un punto di vista proprio di soluzioni. Nascono soluzioni tutti i giorni, si sente parlare di soluzioni tutti i giorni, quindi un giorno si parla di cloud, il giorno dopo si parla di cyber security, è stato un argomento caldissimo in questo ultimo periodo, poi si parla di soluzioni di IoT, però quello che vedo spesso quando si va dal cliente è che poi c'è molta confusione, quindi bisogna essere anche da un punto di vista di comunicazione nella multicanalità della comunicazione, essere efficace. Efficace significa comunicare in modo semplice e quando c'è bisogno di comunicare in modo semplice, quando si va invece in determinate aziende magari più strutturate, più preparate su determinati discorsi, chiaramente entrare in determinati dettagli. Quindi bisogna avere non solo una comunicazione multicanale, ma anche una comunicazione che sia in grado di essere efficace sul tipo di canale su cui stiamo andando. E quello che stiamo facendo è proprio questo. Faccio un esempio, l'ultimo anno abbiamo lanciato proprio una campagna comunicativa che era rivolta per esempio nel mondo della televisione, quindi diciamo del mass market, sia a far conoscere alle imprese per esempio tutta la parte del voucher della connettività, quindi diciamo di come sfruttare i vouchers della connettività per rendere le proprie aziende connesse, dall'altra per esempio abbiamo sfruttato tutta la parte di comunicazione per presentare aziende che sono i nostri clienti e far raccontare dalle aziende, i nostri clienti stesse, diciamo quali sono state le iniziative che hanno fatto insieme a noi, proprio perché la comunicazione è più efficace e più semplice, perché arriva da chi l'ha diciamo sfruttata nella propria azienda e quindi la sa spiegare in maniera anche più semplice rispetto a quello che potremmo fare noi. Ecco, ritornando appunto al mondo delle aziende, naturalmente ci sono bisogni, necessità diverse, diversificazione è proprio un po' la parola chiave e a proposito di questo, ecco, la vostra offerta di servizi diversificati, come si struttura proprio a livello di marketing e di comunicazione? Allora, si struttura diciamo in, la comunicazione chiaramente dei prodotti è diversa anche proprio ai fini diciamo dell'obiettivo che vogliamo raggiungere. Faccio un esempio, quando si parla di cyber security il rischio oggi è che si parla in maniera per esempio molto ad alto livello e quindi che va bene in determinati canali perché chiaramente non possiamo essere troppo tecnici ma invece su altri canali risulta inefficace perché sembri diciamo generalista e semplifichi troppo la situazione. Quindi l'importanza della strategia comunicativa e di come presentiamo i servizi sta anche nel trovare il canale giusto per spiegare determinati tipi di messaggi. Quindi per esempio quando parliamo di cyber security o di cloud, quando si cerca di andare in, per esempio, determinati canali di marketing, possono essere per esempio specifiche sezioni o specifiche riviste che parlano di quell'argomento e entrare un po' di più nel dettaglio. Un'altra cosa efficace è sempre il contatto con il cliente. Una cosa che stiamo trovando molto efficace è che per esempio, manco a farla posta, in questo periodo durante le campagne di attacchi che stiamo ricevendo nel mondo di cyber security è comunicare efficacemente anche meccanismi di come risolvere o come affrontare il problema verso i nostri clienti e quindi questo è sempre un canale comunicativo, cioè essere sempre a contatto con il cliente, essere sempre a supporto del cliente, anche con la comunicazione. Questo lo ritengo fondamentale in tutti i settori, quindi si parla di cyber security, ma anche di cloud o di IoT e cercare quindi sempre di fornire informazioni che siano efficaci per far capire al cliente qual è il reale utilizzo di quella tecnologia e come loro lo possono sfruttare per i loro bisogni. Chiaro. Ecco, lei ha parlato appunto nello specifico poi della piattaforma IoT e c'è uno sviluppo di questa piattaforma in tutti i diversi ambiti di utilizzo, andiamo dalla logistica all'industria, dalle smart city fino all'health care, quindi insomma ambiti veramente ampi e diversi. Ce lo spiega nello specifico in cosa consiste, quali sono i benefici anche che questa nuova tecnologia può portare? Allora, la piattaforma IoT è importante perché oggi la grande difficoltà è, ci sono tantissimi oggetti connessi, ci sono tantissime informazioni che arrivano da varie fonti, quindi da fonti fisiche, da fonti digitali, da fonti che sono proprio i sensori, quindi i famosi diciamo oggetti IoT che vengono connessi. Quindi la piattaforma IoT che cosa fa? Deve essere in grado di aggregare queste informazioni e fornire diciamo una base dati su cui poi si possono costruire diciamo informazioni o elaborazioni di quel dato che contengano informazioni utili per chi le legge e per chi deve poi sfruttare queste informazioni per delle decisioni, quindi quello che si chiama la data driven, che può essere una data driven company, una data driven city o una data driven azienda per esempio nel mondo dell'Helker come menzionavamo prima. Quindi il tema è oggi che noi stiamo sviluppando, dato che abbiamo il 5G che ci permette di connettere i dispositivi, il narrowband che ci permette di connettere i dispositivi, quindi tramite linee mobili e poi la connettività fissa. Noi siamo in grado di intercettare tutte queste informazioni e dare a disposizione dei nostri clienti che possono essere le città o le aziende o la pubblica amministrazione in termini di sanità, scuola eccetera, dashboard o strumenti che siano in grado di fornire per esempio informazioni come possono essere il consumo energetico, la qualità dell'area, il consumo di determinati dispositivi, il water meter per esempio per gli acquedotti oppure per esempio per le città, sistemi di smart lighting o di controllo dei parcheggi, controllo della pubblica sicurezza, quindi ci sono tantissime verticalizzazioni. Quello che stiamo facendo è costruire una piattaforma in grado di intercettare i dati su questa piattaforma insieme ai nostri partner, con le nostre competenze, costruire dei specifici usi di questi dati, quindi dashboard o informazioni o addirittura vere e proprie applicazioni che sono date diciamo su determinati verticali che abbiamo menzionato prima. Sì, insomma è un quadro, una panoramica davvero bella, importante ecco che riguarda questa trasformazione digitale che caratterizza inevitabilmente la nostra era, è la parola chiave per comprendere questo periodo insieme a un'altra che è sostenibilità, sicuramente qua al centro dell'agenda politica anche e al centro anche naturalmente delle imprese, in molti ci hanno investito, stanno investendo in sostenibilità, una tematica che sta a cuore naturalmente anche a Wind3. voi avete degli obiettivi particolarmente ambiziosi da qui alla fine del decennio, quali sono? Allora noi ci crediamo tantissimo, come tantissime aziende chiaramente, ma siamo entrati molto nel pragmatico, cioè noi ci crediamo talmente tanto che ci siamo prefissati diciamo tre aree su cui vogliamo investire diciamo come azienda è 10 Goal, dove fondamentalmente l'obiettivo è essere più responsabili, più sostenibili in termini di green e più inclusivi in termini di sostenibilità ma anche di avvicinanza al cittadino. Quindi che cosa abbiamo fatto? Con i nostri Goal cerchiamo di affrontare diverse tematiche, tematiche che vanno verso la popolazione, il cittadino e quindi la persona e quindi tematiche che si rivolgono all'alfabetizzazione proprio delle persone, quindi abbiamo dei programmi che per esempio si rivolgono ai giovani, quindi noi li chiamiamo i neoconnessi oppure i neoconnessi e quindi agli anziani, quindi percorsi per sfruttare al meglio le infrastrutture digitali e diciamo gli strumenti digitali, oppure ci sono percorsi che vanno verso la sicurezza, quindi aziende più sicure, quindi abbiamo proprio dei percorsi sia di training e sia di supporto alle aziende per renderle più sicure, oppure strumenti che vanno, Goal, che vanno verso quelli che sono invece le pubbliche amministrazioni e la cittadinanza intenso città. Quindi abbiamo per esempio due programmi, uno che si chiama Borghi connessi, uno Smart Cities dove supportiamo per esempio per i Borghi connessi tutto quello che è il fatto che i Borghi vengano resi, siano connessi, siano digitalmente avanzati per supportare il turismo, le persone che vivono all'interno dei Borghi, ma anche per supportare diciamo l'evoluzione di questi Borghi anche proprio nel loro interno, al loro interno. Dall'altra parte le Smart Cities in piano di trasformazione di città in Smart Cities, quindi in città digitali, quindi anche lì proponiamo tutta una serie di iniziative che si rivolgono diciamo alle aziende, alle città scusatemi, per supportare diciamo la loro trasformazione digitale. Quindi abbiamo dieci Goal su cui costantemente ci misuriamo, cerchiamo di essere sempre diciamo in linea con i nostri piani di sostenibilità e supportare le aziende, chiaramente nel concetto anche di sostenibilità in senso più ampio della parola, in una logica green, 100% sostenibile nel rispetto della tematica ambientale, chiaramente. Dieci Goal, dieci obiettivi, sono tanti, insomma abbiamo visto anche vari dall'alfabetizzazione digitale della popolazione più o meno giovane, alla sicurezza, al passaggio dalla città alle Smart Cities, quindi insomma sono veramente tanti obiettivi, però c'è anche tempo da qui al 2030, vi auguriamo naturalmente di centrarli tutti. Bene, io ringrazio naturalmente il dottor Luca Cardone, responsabile 5G and Corporate Solution di Windtrapper, la panoramica che ci ha offerto, grazie per essere stato ospite di Agora Marketing. Grazie mille, grazie a tutti. Bene, allora questa puntata di Agora Marketing termina qui, non la programmazione di Le Fonti TV che continua, quindi mi raccomando, restate con noi. Grazie mille, grazie a tutti.